Buongiorno a tutti i fan di Mollerino Sport Channel, io sono Alfonso e sono qua per parlarvi della prova Donne Under-23 degli europei di ciclocross. Seconda giornata, visto che la giornata di ieri comprendeva le prove Juniors e Elite Donne e Uomini Under-23, mentre nella giornata di oggi, la mattina alle 11 hanno corso i maschi Juniors, hanno appena concluso le donne Under-23 e dopo ci sarà la prova regina degli Uomini Elite. Io mi concentrerò sulla prova femminile Under-23, visto che la prova maschile Juniors non era trasmessa in televisione, vi accenno soltanto che in terza posizione si è piazzato un italiano, Paletti, ecco, soltanto questo riesco a dirvi, ottima prestazione da parte sua, anche lui conferma il trend che si era visto anche ieri, ovvero che gli stradisti su questo percorso molto, che comprendeva molti tratti di asfalto o comunque non troppo difficile dal punto di vista del terreno, ecco, ha favorito molto gli stradisti e quindi ecco, si conferma questo trend. Si conferma anche nelle donne Under-23 con la vittoria dell'olandese Shirin Van Arooy in forza al team Trek Segafredo su strada, compagna di Lucinda Brand, campionessa europea ieri fra le donne Elite. E, che dire, la gara è partita subito forte con la francese Foukenet, anche lei stradista con il team Arkea, parte fortissima e soltanto Puck Peters, l'atleta dell'Alpesin, riesce a starle a ruota, ma sfortunatamente nel tratto fangoso cade e perde veramente tantissimo tempo perché deve tornare indietro, cambia la bici ma perde veramente quasi un minuto solo per questo. Quindi si ritrova la gara e ovviamente la sua gara è condizionata da questa caduta. Foukenet che è partita fortissima, pian piano inizia a rallentare, Shirin Van Arooy che è stata costante per tutti i sei giri, veramente in un modo spettacolare, con la sua temperanza è riuscita veramente a stravincere, nonostante il ritorno veramente mostruoso di Puck Peters che da veramente aveva perso quasi un minuto è riuscita a tornare sotto quasi alle ruote di Shirin Van Arooy. Sul finale, ormai il penultimo e l'ultimo giro, Puck Peters veramente estremata da questa rimonta eccezionale, ha dovuto mollare ecco a Shirin Van Arooy lasciandole ecco i 17 secondi che si porterà alla fine. Quindi troviamo prima Shirin Van Arooy, seconda Puck Peters e terza che completa il podio tuttolandese, non una novità ecco nel ciclocross soprattutto al femminile, ecco troviamo Femme Van Empel. Ecco, entrambe giovanissime, entrambe classe 2002, quindi veramente una lotta che vedremo ancora per molti molti anni questa. Quarta ha concluso Lim Buequier, la francese anche lei addirittura al primo anno, quindi solo 18enne, già campionessa del mondo nel cross country, quindi nella mountain bike, anche lei veramente un ottimo prospetto. Quinta alla fine ha concluso Fokene, che è riuscita ecco dopo una partenza strepitosa, ovviamente è calata, non essendo una cima, però ecco è riuscita a concludere in top 5. Sesta troviamo Gaia Realini, ecco un po' sfortunata la sua gara ha corso nelle vetrovie, cioè è partita un po' indietro, ha dovuto un po' recuperare, alla fine ha concluso sesta. Secondo me è comunque un buon risultato, visto che davanti a lei sono arrivate ragazze che con esperienza, diciamo a livello internazionale rispetto a Gaia, che ha corso prevalentemente il Giro d'Italia a ciclocross, quindi ha corso quasi solo in Italia, ecco le altre ragazze hanno corso il Super Prestige, la Coppa del Mondo, quindi si è fatta sentire anche comunque l'esperienza accumulata in queste prime gare intercontinentali. Ecco, per concludere con le altre italiane, troviamo ventesima Lucia Bramati, anche lei diciottenne, 2003, al primo anno faiando il 23, quindi insomma buono, ventitresima troviamo Carlotta Borello ad un giro, ed infine troviamo ventisettesima Alice Papo, anche lei al primo anno però ha preso due giri, quindi ecco, non una prova super brillante la sua, ecco, quindi questo è tutto, come abbiamo fatto notare, questi europei hanno premiato per lo più le stradiste, in entrambi i casi sia nella prova a donne elite, sia nella prova a donne under 23 è un atleta della Trek Segafredo a vincere, o comunque sempre della Trek anche nel ciclocross, ecco, se proprio vogliamo tirare anche la prova donne juniors, visto che Zoe Beckstead è sorella di Linor Beckstead, anche lei in Trek Segafredo, può essere che anche lei, insomma, l'anno prossimo passerà professionista con la Trek Segafredo, quindi ecco, sempre per restare nel filo Trek, Trek che il femminile ha dominato, questi europei, e Olanda anche, che insomma, in tutte le gare ha avuto le proprie atlete sul podio, quindi ecco, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video, mettete un like, iscrivetevi al nostro canale se ancora non ci seguite, e dopo vi lascio a Marco che farà il resoconto della prova uomini elite di questi europei in Olanda sul Col Duvam. Ciao e buona giornata.